La musica ha una funzione importante nel senso che può portare alla gente notizie di tanti problemi sociali e quindi può essere un mezzo molto veloce e molto efficace. Io sono contenta in quanto cantante di utilizzare la musica, la voce, i testi per comunicare quelli che sono problemi che io ritengo assolutamente importanti, specialmente in casi in cui vi siano degli handicap come questa serata vuole giustamente dire e denunciare. Oh la 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 Oh la la Oh la la Io canto per un fiore Fiore di primavera Pocchini bambino Quante cose hai visto già Cosa farei stanotte Come direi il domani Coroce d'amore Non aver paura Non aver paura Non aver paura Prego con te In silenzio Fiore di speranza Coroce d'amore Prendi la mia Ma mai Canto a puro e non aver paura Fiore di primavera Pocchini bambino Non aver paura Perfetto Perfetto Pocchini bambino Quante cose hai visto